Ciao a tutti ragazzi qui è Fortemar che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi portiamo una challenge di Fortnite che ho deciso di chiamare Bot Challenge Non mi pare di averla vista ad altri youtuber in generale in Italia o nel mondo Non so se è una novità, spero di sì ragazzi, comunque la challenge è questa Chiunque abbia un codice creatore può creare anche dei server privati Ora, avevo notato che avviando un server privato I posti mancanti che non venivano occupati da altre persone, da fan, venivano riempiti con dei bot Quindi ho pensato, se riempissi un server solo con me, poi si riempirebbe con altri 99 bot? Sì ragazzi, quindi fondamentalmente si possono avviare dei server solo di bot Quindi la Bot Challenge consiste in questo Avviare un server privato di soli bot e vedere quante kill si riescono a fare Il mio record non lo svelo, vi voglio far vedere il video Ma vi prego ragazzi, cerchiamo di diffondere questa challenge Quindi ragazzi, se volete fare diffondere la challenge Mi raccomando, andate sotto un video di un vostro youtuber preferito Di una persona che vi piace, che è Forta Forta Scrivete, fai la Bot Challenge E poi, insomma, basta che andrà su YouTube e vedrà di cosa si tratta Quindi io vi lascio al mio tentativo per non perderci ancora in chiacchiere Vi ricordo giusto di iscrivervi al canale se non siete giù iscritti E di attivare la campanellina Vi lascio al game Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione ai supporto a un creatore Inserite il codice Fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Allora ragazzi, l'intro l'avete sentita? Stiamo facendo veramente qualcosa di molto stupido Quella che ho voluto chiamare la Bot Challenge Allora, io non so se qualcuno in Italia, nel mondo, già l'ha portata La mia non è qualcosa di incredibile Cioè voglio dire, sto semplicemente avviando un server privato Senza persone Che quindi viene riempito con dei bot Vediamo ragazzi, vediamo Io non so come andrà sta cosa Spero bene In realtà io vedo poca gente che si è allendata Ok, no Gente che possiamo tranquillamente già eliminare di così Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Ok Un paio di kill non ce le leva nessuno ragazzi Ok Quello si fa eliminare, no Non si fa vedere l'infame Cavolo ragazzi Ok, però fa il moonwalk Non vi metto l'effetto perché altrimenti mi bannano Però ok Lui va indietro Ok, ci sto Un tipo ragazzi, questo è poco ma sicuro Bello Oh Mamma mia Oh, attenzione, fugge Attenzione Vedante raga, fugge Pericolosissimo Ok, cosa sta succedendo ragazzi Cioè io non lo so Bot Bot, vi prego, funzionate Non lo so Ho già una lobby di bot Poi i bot non funzionano Questa cosa Già sta iniziando in maniera ridicola ragazzi Però a me piace A noi ci piacciono queste cose ridicole ragazzi Allora Specifichiamo una cosa Altrimenti mi odiate tutti Ragazzi A parte che ho trovato C'è delle armite Madonna Ma cosa Ma cosa ragazzi Vabbè Allora io sto facendo questo video Non per dimostrare quanto sono forte Perché dimostrare quanto sono forte Contro dei bot È abbastanza triste come cosa Ragazzi Sto facendo questo video Semplicemente per Magari far diffondere questa bot challenge Quindi raga Andate sotto Non lo so I video dei vostri youtuber preferiti Scrivendo Fai la bot challenge E vediamo se riusciamo a farla diffondere Ragazzi Servete veramente figo Non so se questa cosa si può fare Che riempie un server privato Con bot Non so Se qualcuno l'ha già fatto Perché è la cosa che più mi spaventa ragazzi Ma Per quanto ne so io Nessuno l'aveva mai fatto Io poi non ne ho idea ragazzi Potrebbe darsi Potrebbe darsi No Sinceramente non mi sono manco informato Il video l'ho registrato direttamente Però vediamo Vediamo Comunque È una cosa carina Veramente molto figa E divertente Se devo dire Perché è veramente un tiro al bersaglio Cioè raga I bot poverini Cioè non capiscono nulla Cioè voglio dire Raga Poverini Cioè veramente poverini Comunque comunque Noi ci abbiamo una barca Noi ragazzi ci cominciamo un po' a muovere Andiamo nella zona di Misty Meadows Magari per cercare qualcuno Non so che ronda voglio farmi Io non me la sono studiata ragazzi La ronda da fare Cioè qua veramente per fare tante kill Alla fine non è tanto l'abilità Ma è proprio Il trovare nemici il problema Capite? Perché tu una volta che ti sei ripollito tutta una zona Va a trovare altra gente Alla fine il problema è quello ragazzi Non è fare kill Perché l'avete visto I nemici cadono a terra Veramente come birilli Quindi non lo so Muoviamoci dai Non perdiamo tempo Abbiamo una barca che sicuramente ci velocizza E andiamo Oddio forse la barca sarebbe stato meglio se l'avessi lasciata sopra Bella A parte che leva 35 Leva 35 Veramente così poco Ribaltati 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 Grazie Bella Ok Mi sono fatto levare comunque 70 Non scherziamo Cioè circa 60 62 mi pare Ok ok Cecchinata Cecchinata Non era a me quindi a qualcun altro Non perdiamo tempo ragazzi Quando sentiamo ste cose Sono due kill praticamente Se ci muoviamo Cavolo Un eliminato con la pistola Spero non fosse questo qui Dai shotgun Cavolo Ogni volta che vedo una feed mi preoccupo Dov'era Dov'era questa cecchinata Dov'era Ah ok Questa è un tizio qui Potrebbe essere tranquillamente quello che stiamo cercando Ok Abbiamo fucile di precisione Sì Poteva essere lui Non credo fosse lui Perché abbiamo un tipo lì Cavolo Adesso ho finito le munizioni però qua Cavolo Gente che Spara a me No forse gente che sparava Il tizio che stavo eliminando io Dove è andato ragazzi Dove è andato Come hai fatto a scomparire Ma che c'ha Il tele Trasporto Perché ho detto tele E poi trasporto Anche le mie capacità intellettive Se stanno venendo Stanno venendo meno Ma sì Ma io non lo so ragazzi Mi sembra che sta gente Sildere da sport Non lo so Sti bot mi danno sempre l'impressione Che scompaiono Compaiono Non lo so Sono strani Sono inquietanti Regà C'avevi i razzi Non c'ha razzi Regà Non c'ha razzi Oh Pompa Colpi di pompa Dove Oh Regà Non no no Non fai datevi Non vi permettete Per nessuna ragione al mondo Madonna Faccio schifo Oh Ok Complimenti per la smirata Spare una smirata del genere Ci vuole arte Sì ma tu che stavi sparando Ma non so Questa gente spara a caso Giusto per farsi vedere Ah no Sta un nemico là Sta un nemico là Ok 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 Tappa tappa Immortale tra l'altro Oh addirittura questo build Inquietanto Troppa forte manfred Troppa forte Oh Che cazzo ragazzi C'è questa cosa Arrediva È veramente arrediva La mia è troppo divertente Ma com'è che prima Oh ma quanta cese si sta eliminando Oh calmi 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 Ragazzi stavamo in 40 Poi il resto si va da solo C'è che dire Ok Questo aveva costruito Perché Per spizio O si stava coprendo Da qualcuno Non se sa ragazzi Non se sa Comunque intanto Vi invito ad iscrivervi al canale Se non siete iscritti E attivare la campanellina Io direi di iscrivervi Solo per le smirate Stupende che ho fatto ragazzi Comodo ragazzi Si stanno eliminando La cosa mi dà ansia Il problema è che Sta tutta quella zona aperta Non posso ragionare Come se stessero solo Queste zone aperte Cavolo Spari 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 Tu parli francese Cioè sta un tipo Che si chiama Tu parli francese Non lo so Cavolo dove stanno a fare Non lo capisco Ragazzi Ah sta uno che sta a sparare là Mi stanno a sparare Ragazzi mi stanno sparando Mi stanno sparando Che cosa ridico là Ok Rip Bertini Mclarge Ragazzi Possiamo fare 28 kill Volendo Cioè vorrei dire Quanto è ridicola la cosa Il problema ragazzi È trovare tutti quelli in lobby O stare i dubbi Che riusciremo a incontrare Tutti I bot rimasti Cioè uno è morto in tempesta Già su 27 kill Che ansia Vediamo ragazzi Il nostro compito è solo di trovarli Cavolo se ho dato degli spari Vi prego Non vi faitate Non li vedo Non li vedo No ok lo vedo Eh ma quelli si eliminano Ragazzi Ok no Invece no Sono riuscito a prenderlo Dai Non è facile colpire Ragazzi Perché a me la pena Me lo carica Sinceramente Che cosa ridicola Buccia di banana 27 887 Ma cos'è Vabbè io ho dato anti bombs L'ho fatta Quello era il mio obiettivo Cioè Voglio dire Non è che avessi tante Grandi aspettative L'avevo detto ragazzi Perché il problema È incontrare i nemici Non è tanto eliminarsi È molto una questione di Di fortuna Di giorta fondamentalmente Ok c'è finata Da dove? Da lì Ok Madonna C'è te che si fightano No 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 Vi prego Vi prego Vi prego Non vi vedo Non vi posso vedere Non fightatevi No ragazzi si fightano Cioè ne sono sicuro Non ci riuscirò mai Probabilmente non ci riuscirò mai Sono troppo oltre ragazzi Troppo oltre Vi prego Vi prego Non fightatevi Se fossi arrivato Un fottuto secondo Prima Madonna no Io ti devo trappare Cioè c'ho Ok ragazzi Vi ricordo ragazzi Che per far Appunto girare la challenge Vi conviene andare sotto I video dei vostri youtuber preferiti E scrivere Bot challenge Per vedere quanti ne riescono Appunto a fare Vediamo Ok ragazzi L'avete visto 23 kill Non sono tante Ho fatto tante smirate Ho fatto veramente Tantissime Ragazzi Ripeto La challenge non era fatta Per vedere quanto ero forte È una questione più Di riuscire a trovare nemici Che di eliminarli Effettivamente Perché una volta trovati Si eliminano veramente Come dei birilli Quindi ok Spero che la challenge Comunque vi sia piaciuta Spero che si diffonderà Vi ricordo ancora Di iscrivervi al canale Se non siete già iscritti Attivare la campanellina Seguirmi su instagram Attivare il codice Creatore fort Fate tutte queste cose Ragazzi E noi intanto ci becchiamo Alla prossima Ciao